bravo e da quanti anni sai ammascare la pizza tu è il secondo ma la sai anche con dire questa è una cosa proprio grande gianna donna lo fai proprio felice ti piace aiutare papà in pizzeria sì ti piace aiutare papà in pizzeria ciao 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 e bravo un pizzaiolo completo un pizzaiolo un pizzaiolo completo